Dunque prima il calcio con una zona mista su RTV 38 dalle 21 e poi Ovo Sodo, dunque una serata davvero da non perdere, dicevamo del ritorno a una pseudonormalità, che normalità assolutamente non è, non ci va nemmeno vicino, ma almeno proviamo a farla assomigliare. Da questa mattina riprendono anche le lezioni all'università, andiamo ad Arezzo dove c'è un po' l'università legato alla struttura dell'Ateneo di Siena con Greta Settimelli per vedere anche un po' di immagini, qualche lezione da questa mattina ripresa. Esatto Nicola, proprio così, ovviamente nel rispetto delle normative anti-Covid, un numero di studenti decisamente minore, per il momento non c'è una stima precisa, magari nei prossimi giorni ce la potranno fornire. Siamo in compagnia tra l'altro di un ricercatore. Partiamo dalla parte emozionale, varcare di nuovo quella soglia, com'è stato? Sì, ecco, diciamo che da oggi è possibile frequentare in presenza le lezioni e in tutta sicurezza. Sicuramente quello che ripetiamo è prudenza, prudenza e attenzione ai comportamenti individuali affinché questo momento di ritorno in presenza venga avvalorato e possa veramente essere la fine di un tunnel. Abbiamo verificato con le nostre telecamere, insomma ci sono ovviamente dei numeri per ogni aula rispetto anche alle zone del campus universitario e poi lei ci spiegava che ci sono materie che comunque ancora ad oggi possono essere eseguite a distanza, altre ovviamente no. Certo, nei mesi scorsi grazie alla didattica online abbiamo avuto l'occasione di coinvolgere studentesse e studenti di continuare il loro percorso formativo con attività, lavori di gruppo, progetti. Oggi è importante tornare in aula. Sicuramente la frequenza in aula verrà affiancata anche da tutte le piattaforme che l'Ateneo mette a disposizione e che possono appunto supportare, come diceva, le diverse materie, quindi lezioni in streaming ma anche attività partecipative online. Non so se hai altre domande, poi avevamo anche questo studente che noi avevamo sentito questa mattina, C'è ancora un po' di paura ma c'è una grande emozione nel tornare in aula. Assolutamente, lo ascolteremo poi nel corso dell'ETG, quella che è anche il trasporto appunto dei ragazzi. Grazie, grazie Greta, grazie anche al ricercatore per averci riportato in questo mondo, il mondo della scuola, assessore appunto al quale lei è particolarmente cara e che lei è particolarmente vicino, vive un piccolo passaggio anche attraverso questo momento di ritorno alla normalità. Io direi un piccolo passaggio fondamentale, noi tra l'altro, io lo ricordo sempre perché fin dal primo lockdown abbiamo fatto partire da Firenze una battaglia che poi è stata a livello nazionale per la riapertura delle scuole perché sappiamo benissimo quello che hanno pagato i nostri ragazzi e che stanno continuando a pagare con la chiusura delle scuole. Non si può dire che la didattica a distanza è la stessa cosa, la scuola è in presenza, proprio sono due mondi diversi, completamente diversi e abbiamo visto soprattutto sui nostri adolescenti e ragazzi dei primi anni dell'università quelle che sono le conseguenze da un punto di vista anche proprio emotivo. Lo vediamo con i dati del Meyer, lo vediamo con i nostri servizi, aumento di depressione, aumento di fenomeni di autolesionismo. I nostri ragazzi hanno pagato e stanno pagando un prezzo carissimo. E chissà per quanto, non per nulla, noi come Comune di Firenze abbiamo lanciato una task force per lavorare tutti insieme e provare a prevenire il più possibile gli episodi di disagio. Questo è un piccolo, un primo segnale, un primo segnale per fare in modo che i nostri ragazzi possano riniziare con la routine che è fondamentale. Con le scuole, devo dire, del primo ciclo, con i più piccolini, su Firenze siamo riusciti a mantenerle sempre aperte, a parte la settimana in cui sono andate in rossa, ma poi sono ritornate sempre in presenza. Con le scuole superiori e le università ovviamente è un percorso che è stato più ostacoli e ora finalmente c'è di nuovo la presenza, anche se nella parte finale dell'anno, ma un momento importante per ritirare un po' il bilancio generale. E poi la raccomandazione nostra, su quello che stiamo spingendo, è lavoriamo per fare in modo che a settembre non si vada. Si diceva anche l'anno scorso. Però devo dire, da parte degli enti locali e da parte delle amministrazioni è stato fatto un lavoro enorme e a settembre, il 14 settembre, i ragazzi sono rientrati a scuola. È chiaro che poi le varie disposizioni date a livello governativo sulla presenza, 50%, 75%, assenza, ovviamente noi dobbiamo seguirle. Si può lavorare però per fare in modo che la scuola in presenza rimanga. Ma il vero problema, al di là del contagio all'interno delle aule, che è anche difficile da misurare, ma il problema vero è stato quello del trasporto. Quel gap lì è stato colmato? Allora, la città metropolitana di Firenze ha fatto uno sforzo enorme. Ha fatto uno sforzo enorme sia in termini economici, hanno aumentato ovviamente le corse dove era possibile da parte dei trasporti, hanno pagato gli steward per gli assembramenti alle fermate, abbiamo lavorato insieme alla città metropolitana per il progetto Back to School dove i ragazzi si sono messi a disposizione. Diciamo, le misure messe in campo per fronteggiarlo sono state messe e non abbiamo visto particolari criticità. Per quanto riguarda l'interno delle scuole, l'ho sempre detto e non mi stancherò mai di dirlo, noi siamo state la prima città in Italia per aver fatto partire uno screening a tappeto su tutte le scuole del primo ciclo. E la dimostrazione c'è stata, e poi abbiamo contatti ovviamente ancora con le scuole e con l'azienda sanitaria, che le scuole non sono luoghi di focolai. Certo, ci sono pochi casi positivi, però c'è nello screening nostro su quasi 20.000 test, sono risultati 13 casi positivi, per cui è emblematico. Ci sono anche ora con le varianti, soprattutto anche più casi positivi, ma la cosa che abbiamo sempre verificato è che il focolaio non parte dalla scuola. Il problema è quello che succede fuori, è per questo che si ritorna al messaggio di prima che è il richiamo al senso di responsabilità, anche per non far ripagare alla scuola un prezzo che non deve pagare. Che ne pensa Capricchi? Tema trasporto o tema anche contagio in classe? Allora, io da genitore dico che sono d'accordo, la DAD è una cosa completamente diversa e il livello di attenzione e di apprendimento da parte dei ragazzi non è misurabile e non è paragonabile rispetto a quello che si ottiene in classe, con il lavoro dei professori, diciamo, con tutto quello che la scuola comporta. Detto questo, è ovvio... Si scende con l'età e più complicata diventa la DAD. Esattamente, anche mantenere i livelli di attenzione minimi e per famiglie come la mia, per cui si sta fuori, magari ci sta la zia, la suocera, è ovvio che poi non c'è lo stesso rendimento e questo è chiaramente anche per le elementari e poi le medie, crea dei buchi nell'apprendimento che non sono facili poi da recuperare in seguito. Quindi è un problema anche, secondo me, oltre alla socialità, naturalmente, perché quello diceva l'assessore, è correttissimo. In Valdinievole ci sono stati tre suicidi la scorsa settimana, per esempio, non di ragazzi troppo giovani, ma comunque c'è un malessere profondo e chiaramente una vicenda, ma quella della pandemia genera e contribuisce ad accrescere. Il tema vero è, uno dei temi veri, è il trasporto pubblico. Noi avevamo chiesto già dall'agosto del 2020 di coinvolgere gli operatori privati, in parte è stato fatto, cioè quelle aziende di piccolo e medio cabotaggio che fanno servizi turistici e di trasporto privato che hanno messo a disposizione i loro mezzi. Una parte, per la verità, ci dicono, devono ancora essere ripagate dalla regione, ma questo, diciamo, è un problema superabile, ma non è abbastanza, perché con il ritorno, se non al 100, al 75%, è chiaro che i mezzi sui quali invece si può viaggiare al 50%, negli ore di punta non sono più 100%. Esattamente. Quindi questo è un grande tema perché si, diciamo, creerà l'aspettativa come si è creata l'anno scorso per settembre, e quindi è chiaro che bisogna muoversi per tempo, lo diciamo, rivolti naturalmente al governo. Curiosi di vedere come andrà a finire in Toscana, perché voi sapete bene, la Toscana da ormai tre anni vive una vicenda molto complicata che riguarda il trasporto pubblico e la vicenda della famosa gara regionale. Ci dovrebbe essere l'udienza, forse quella decisiva, ora, il 13 di maggio, dopo l'ennesima consulenza tecnica affidata dal Consiglio di Stato per valutare i piani economici e finanziari presentati, diciamo, per semplificare dai francesi e dalle aziende toscane. Al di là di quello che ciascuno di noi spera o auspica o vuole, in realtà l'importante è avere un unico interlocutore. Arriviamo a fondo, comunque sia, ha una storia così. Consapevoli del fatto che nel frattempo è cambiato il mondo, diciamo, del trasporto pubblico, perché, per esempio, dal 2021 è entrata una nuova norma che impedisce l'acquisto di autobus diesel, per cui o vanno a gas naturale o sono elettrici, e quindi non si possono più acquistare autobus diesel anche per ragioni di inquinamento. Perché, e concludo, se vogliamo mandare centinaia di migliaia e milioni a livello nazionale di persone, di pendolari e di ragazzi in sicurezza con il trasporto pubblico, dobbiamo fare un poderoso piano degli investimenti, anche regionale, perché sennò con i numeri che abbiamo, con i mezzi che ci sono, non siamo in condizione di farlo, cioè di garantire la sicurezza al di fuori della scuola. Quindi rischiamo che se poi si scivola, rimanendo alle zone, da gialli a arancioni e poi da arancioni a rossi, tutti gli sforzi per la socialità e per l'apprendimento sono resi vanno. La speranza di che si arrivi in fondo, o bianco o nero che sia, però, insomma, chiudiamola questa partita del TPL perché... Esatto. Posso aggiungere un elemento? Non ci scordiamo lo sport, non soltanto quello professionista che fa richiamo, che riempie le piazze, ma quello dilettantista che riguarda i ragazzi soprattutto. Cioè la crescita psicofisica dei ragazzi passa dalla scuola, dall'impegno, dallo studio, ma anche da una corretta attività fisica. Io credo che si possa fare sport in sicurezza, rivediamo i protocolli, ma mandiamo i nostri ragazzi fuori da quei maledetti smartphone che tutti ci portiamo dietro. Io penso che i nostri ragazzi non ne possano più di smartphone. Io penso che questo anno, almeno da questo punto di vista, abbia dato un segnale molto chiaro. Allora, sicuramente c'è il tema del TPL. Io penso però anche che bisogna lavorare, e questo è un lavoro che bisogna continuare. L'abbiamo già iniziato con le scuole, io parlo ovviamente per la città di Firenze, ma va continuato anche su tutto il lavoro sulla mobilità sostenibile. Faccio un esempio concreto. Noi abbiamo lavorato tanto, anche con il mio collega, con l'assessore Gianassi, per fare in modo che i buoni taxi andassero anche per il personale delle scuole e per i ragazzi in questo momento d'emergenza, per dare una risposta anche in questo senso. Chi vive in città si può muovere ovviamente anche con modalità diverse, con le biciclette, cioè cercare anche di incentivare ognuno, in qualche maniera a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per fare in modo che solo chi ha realmente necessità del mezzo pubblico utilizzi il mezzo pubblico. Ecco, su questo bisogna lavorare un po' con un gioco di squadra tra i vari livelli istituzionali per fare in modo che questo avvenga. Tra i progetti del Comune di Firenze ce n'è uno, anche lì con dei nomi sempre un po' fantasiosi, un po' particolari, dedicato al mondo dei vulnerabili e non solo, che state portando avanti. Il progetto Elica, perché hanno sempre un simbolo, l'elica ovviamente smuove l'aria per cui di conseguenza smuove le cose. Allora è un progetto al quale noi teniamo particolarmente, è un progetto che si occupa di inserimenti lavorativi, inserimenti sociolavorativi per persone, ragazzi e adulti con disabilità e con problematiche di salute mentale. Quest'anno per la prima volta, oltre che dare la possibilità di usufruire di questo progetto ai ragazzi o le ragazze che sono in carico ai servizi sociali, abbiamo deciso di aprire anche un avviso, anche per andare a intercettare quelle situazioni che ancora non sono seguite, per cui di conseguenza lavorarci insieme, con un bando pubblico che scade il 12 maggio, dove le famiglie, i tutor, gli amministratori di sostegno possono far partecipare i ragazzi. La novità di quest'anno è che l'abbiamo aperto anche a quelli che stanno finendo il percorso scolastico delle superiori, per cui da 17 anni in su, in modo da provare a dare un po' di continuità tra il percorso di studio e il percorso lavorativo. Si parla di circa 190 posti, per cui insomma sono abbondanti, dove avranno la possibilità di svolgere con un gettone di presenza mensile questo inserimento lavorativo per 18 mesi. I dettagli si trovano sul sito del Comune? Sul sito del Comune c'è tutto. E allora, questo era il passaggio doveroso anche per quanto riguarda un'informazione di servizio. È un pomeriggio importante da un punto di vista istituzionale perché ci sono le istituzioni della Toscana e della Liguria che insieme si ritrovano in quel ponte che di fatto unisce le due regioni e che ormai da oltre un anno non c'è più. Andiamo a vedere com'è la situazione, nell'attesa poi che arrivino il Ministro, il Governatore Gianni, il Governatore Ligure Toti e tutte le altre autorità. Luca Lunedì che l'ha sempre seguita. Tanto vedo il magra di un colore bellissimo, Luca. Almeno questo ci fa ben sperare. Citando Vasco potremmo dire che già siamo ancora qua, a un anno di distanza. Il magra si scorre con un turchese meraviglioso, scorre però sotto le macerie del ponte, esattamente come un anno fa, era l'8 aprile del 2020, noi appunto eravamo qua a documentare le macerie del ponte che sono esattamente come le ricordavamo e come le abbiamo viste. Manca soltanto l'iconico furgoncino rosso che è stato poi travolto dalla piena del magra di questo inverno. Però a un anno di distanza, ecco, siamo qui anche a raccontare una novità, una buona novità. Lo potete vedere, laggiù c'è un cantiere, ci sono degli operai al lavoro, sono i primi lavori che stanno cominciando per la ricostruzione del ponte qua, ad Albiano Magra. Una grossa mano in questo senso l'ha dato la Procura, perché c'è un'indagine in corso ovviamente sulle cause del crollo, ma riperimetrando il confine del cantiere e dell'area apposta sotto sequestro ha permesso sull'altra sponda l'inizio dei lavori. Come vedete, insomma, si sta allestendo il cantiere, sono probabilmente i primi lavori, i primi operai all'opera. Il progetto esecutivo del ponte era stato finito e presentato nello scorso febbraio, la fine dei lavori, quindi il nuovo ponte dovremmo vederlo per marzo 2022, quindi praticamente al compleanno, al secondo compleanno dal crollo, giorno più, giorno meno. Ovviamente la prospettiva di stare ancora un anno sostanzialmente isolati per queste frazioni, perché per attraverso il tragitto per attraversare il ponte era pochi minuti, adesso per andare da una parte all'altra i tempi si decuplicano sostanzialmente, e quindi dopo un anno inficiato dalla pandemia che ben conosciamo, la prospettiva di un altro anno ha sollevato molti malumori e molte proteste tra le aziende e tra i cittadini di questa parte di Toscana al confine con la Liguria, tanto che la CNA si è iscritta tra le parti civili nel processo e ha lanciato un appello alle altre associazioni di categoria di fare altrettanto. Non so, si vede già nelle immagini, ma ci sono dei cartelli lungo il ponte, un comitato si è costituito e sta lottando ormai da un anno per avere un collegamento in fretta, perché sono iniziati anche i lavori, anzi sono terminati i lavori per le rampe, per la A12, ma soltanto dalla parte ligure. La paura sostanzialmente da questa parte è che se una volta il traffico sarà deviato dalla parte ligure sulla A12 con un nuovo casello al biano gratis, quel tratto di autostrada per i residenti, questa parte qua perda un po' di priorità nelle scelte istituzionali e scelte istituzionali che oggi verranno ribadite con la visita appunto fra pochi minuti dei due governatori e degli esponenti del Ministero dei Trasporti e insomma questo comitato si farà sentire e cercherà di capire quali sono i tempi. Comunque oggi ecco il titolo, la notizia è che partono i lavori e che insomma se tutto va bene al prossimo compleanno potremmo festeggiare anche l'inaugurazione del nuovo ponte dal bianomagre. Grazie Luca. Allora poi stasera nel TG tutti i dettagli, anche le voci dei protagonisti delle istituzioni che seguono questo momento così importante. È una fotografia di un'Italia insomma che speriamo esca dalla pandemia non più in queste condizioni perché quel ponte è crollato di fatto anche e aggiungiamo fortunatamente nel bel mezzo della pandemia perché su quel ponte transitavano quotidianamente decine e decine di auto quel giorno esattamente un anno fa non c'era di fatto nessuno se non quel furgone che poi è rimasto un'icona se no poteva essere davvero una nuova una nuova Genova insomma da questo punto di vista io ringrazio Sara Funaro Riccardo ringrazio Alessandro Capecchi per averci fatto compagnia fino adesso diamo la linea alla regia un breve break poi se vuoi rimanere Assessore c'è il sindaco che c'è il sindaco Nardella no anzi la lasciamo andare a lavorare perché il sindaco rimarrà per una mezz'oretta con noi ci darà tante risposte alcuni dei temi che abbiamo trattato e poi anche alcuni aspetti cercheremo di capire tra le tante cose ad esempio in tema di termini di lavori quando sarà pronto lo stadio della Fiorentina noi da tifosi lo aspettiamo Capecchi tra pochissimo con Nardella anche io da tifosa chiaramente lo aspetto anche la Sessore grazie tra poco torniamo con Nardella